streaming da Maranello con cui la Ferrari si prepara ad affrontare il mondiale di Formula 1 a caccia di un titolo che manca dal 2007. Una spruzzata di bianco in più sulla livrea ricorda le monoposto degli anni 70 sotto cui si accende un motore da 15.000 giri e 1.600 di cilindrata. Per costruirla ci sono volute 250.000 ore di lavoro di 700 persone. È fantastica, ha commentato Kimi Raikkonen, abbiamo aspettato tanto per arrivare a questo momento ma ci siamo arrivati e molto brillantemente avremo una grande stagione. Ottimista anche Sebastian Vettel. Nella scorsa stagione c'è stato un periodo difficile, c'erano aspettative, difficoltà e innegabile ma questa stagione deve essere grandiosa, sarà più potente rispetto allo scorso anno. Ora la parola alla pista, i motori si accenderanno il prossimo 20 marzo a Melbourne per la prima tappa del mondiale.